La mia vita è stata una cosa che mi ha fatto dare un'altra cosa. Perché mi aveva tre, non c'era parte, ho dormito fuori. Ho dormito una volta, poi va, avrei scoperto il tetto. Ho dormito un po' e poi ho aperto il tetto. Ho dormito un po' e poi ho potuto sorgere. Ho dormito una volta, non c'era parte, ho dormito quattro volte in giro. Ah, ne ho fatto una quattro. Quando mi sparavo, quando mi sparavo, mi sparavo, mi sparavo a prendere trenta. La cantina aveva un buggino che mi ha sentito, i vecchi, e la canna una volta. E ho parlato di sclerosum. E questo è mio, a tempo di dire, ti chiedi perché hanno imposto a massa. Gli inglesi erano di qua, verso la chiesa. I tedeschi erano nel castello, erano, che si sparavano uno contro l'altro. Dalle finestre, dalla torre, poi perché la torre sopra aveva delle bucchette. Mi ricordo che andavamo a prendere l'acqua. Il mio fratello, che lui era un po' più fuso, aveva un po' più paura. Aveva fatto il buco in un fosso, dove sopra c'erano gli spini, no? Li aveva alzati e lui andava sempre lì, la notte a dormire, per la paura. Passati gli inglesi, i tedeschi si sono ritirati, però i morti sono rimasti lì, molti tedeschi. A uno l'abbiamo scopolto perché, se vede che nessuno l'ha raccolto, l'abbiamo scopolto lì perché faceva un po' più spiomale. Grazie. 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 Grazie.